bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguarda il futuro di fortnite e soprattutto l'evento della season 2 il doomsday event sì perché da qualche ora sono state scoperte cose incredibili sia pubblicamente per tutti in game sia ovviamente che ancora non verranno fatte vedere per qualche giorno quindi non perdetevi degli spezzoni incredibili volevo subito ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video news e allora andiamo direttamente dentro al primo argomento di oggi e non poteva che trattarsi del party royale sì ragazzi perché lo sapete alle 3 di questa mattina ufficialmente è stato fatto il concerto per la premiere del party royale come ci fa vedere esattamente fortnite in un tweet ufficiale non dovete avere paura innanzitutto mentre vi rispiego per l'ennesima volta come prendere le ali vi faccio vedere il trailer non posso farvi sentire la musica perché sotto copyright però posso farvi vedere le immagini come vedete bellissime le ali al neon associate con la skin che è uscita proprio ieri nello shop non dovete preoccuparvi perché vi basterà semplicemente loggare nel party royale fino a lunedì per ottenere gratuitamente le ali quindi ragazzi in qualsiasi momento voi entriate potrete quindi portarvi a casa il backpack il regalo è un peccato se non avete visto l'evento è stato davvero tanta tanta roba ma dovrebbe riesserci un recast in poche parole una nuova una nuova visione dei tre concerti nel pomeriggio di oggi comunque avete visto prima c'erano gli orari non dimenticate di darci un'occhiata perché merita veramente un sacco e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché c'è una grande novità è stata trovata la patch 12.61 quindi nelle prime ore del pomeriggio di ieri sono state aggiunte delle stringhe dedicate ad un aggiornamento della patch che arriverà settimana prossima e che sarà l'ultima grande patch di questa season 2 troveremo dentro di certo delle informazioni riguardanti il doomsday event e adesso ne parliamo di prepotenza potremmo anche trovare ovviamente delle cose riguardanti la season 3 ciò che sappiamo è che poi arriverà anche la 12.61 che si vocifera contenga le overtime challenge sarebbe veramente una cosa incredibile perché vorrebbe dire arriveranno dei nuovi stili per qualche skin e si vocifera anche che uno di questi stili possa essere la banana gold con il vestito della gente bianco in poche parole il logo delle fncs in solo tanta tanta roba non appena saprò qualche cosa lo saprete anche voi e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché invece ne avevamo già parlato ma è confermato ci saranno delle overtime challenge di mida quindi una serie di piccole sfide che non si sa quale regalo daranno ma che faranno parte della gente mida che si dice potrebbe nascondere qualcosa in più probabilmente anche un extra stile aggiuntivo sempre nelle overtime challenge vi faccio vedere intanto lo spezzone che è quello che ci interessa praticamente dovremo prendere dei lingotti d'oro nella sua postazione raggiungibile ovviamente nella sezione agenti dalla lobby come vedete vi sto facendo vedere tutte le posizioni dei lingotti sono quattro e una volta presi non sappiamo in realtà quali regali ci diano però probabilmente punti esperienza come sempre stato staremo a vedere e speriamo che ci sia qualcosa di davvero interessante e arriviamo finalmente al così c'è al topic club del video di oggi parlando inizialmente di quello che si è trovato e che si vede in lobby allora nei file di gioco sono stati trovati degli aggiornamenti sulla lobby riguardante i cavi elettrici si chiamano fec 01 fec 02 fec 03 il che ec sta per electric cable 01 02 03 sta probabilmente per le fasi di questi cavi e come vi sto facendo vedere e come vediamo tutti adesso in game proprio là in alto sotto le voci della lobby vedete quel cavo rosso con la parte centrale ecco quello è uno dei cavi elettrici che si vedono adesso ma non sarà l'unico ce ne saranno davvero tanti tanti altri possiamo vedere ad esempio questo che è sulla parte laterale ma voglio farvi vedere una roba veramente incredibile prima di parlarvi di tutto quello che c'è dietro ed è un bellissimo spezzone che ci fa vedere come diventeranno i cavi quindi la variante la come si dice la numero 2 di dei cavi sarà l'attraversamento della corrente come state vedendo si vede proprio il flusso mentre lo stato 3 dei cavi saranno questi colpi di fulmini come si dice dell'energia come avete notato in quello alto che sembrano quasi creare un cortocircuito guardate che meraviglia questa immagine dove si vede proprio l'animazione della corrente che arriva fino alla stanza del doomsday weapon quindi il doomsday weapon l'arma del giudizio finale è quella bolla di vetro che state vedendo in questo momento che è alimentata appunto da che cosa ma ma la corrente sembrerebbe arrivare probabilmente da quegli strani oggi aggeggi che ci sono all'esterno dell'agenzia e guardate davvero che roba incredibile ma una cosa che voglio far vedere e sul quale ho bloccato in questo momento la lo spezzone del video è quella grata che c'è la in centro si può voi dite perché quella grata chi se ne frega vi faccio vedere una cosa veramente incredibile intanto queste come vi anticipavo sono le varie fasi della corrente che attraversa i cavi ma quello che a noi interessa è proprio quella grata che sebbene sembra insignificante in realtà nasconde qualcosa di incredibile guardatela bene in questa immagine vedete che allora ragazzi che senso avrebbe disegnare un oggetto di sfondo come una grata e metterci addirittura quella roba di verdina dai raga adesso parliamoci chiaro io posso capire che epi games voglia fare le cose fatte per bene abbiamo visto anche ieri un'immagine di una skin in 8k una roba veramente dettagliata a livelli allucinanti ma questo no questo io non me lo accetto vuol dire che succederà qualche cosa innanzitutto a voi che cosa sembra questa roba qua verde dai raga non non ha senso vi faccio vedere un'altra immagine dove si vede ancora meglio questa è proprio lampante a me sembra succo slurp non è che per caso si collegano direttamente al pozzo che ha imballo poi esploso non si sa perché questo è succo slurp secondo me non è acqua perché se fosse acqua uno sarebbe disegnato in maniera diversa e due gocciolerebbe invece questo a me sembra abbia proprio una specie di consistenza quindi secondo voi perché hanno voluto addirittura mettere questi dettagli probabilmente perché verrà inondata questa parte di della stanza di mida e quindi succederà un cortocircuito sarà magari quella la cosa che dovremmo fare per evitare ovviamente che mida faccia funzionare la doomsday weapon e quindi distrugga la mappa oppure utilizzeranno magari come già si diceva con il piccone di oro la bo la forza del cubo di kevin quindi addirittura si scoprirà che saranno collegati a foschi fumaioli non si sa non si sa ma abbiamo visto anche che da pochi e da pochi giorni è attiva la fase 2 invece del doomsday quindi sono tutte le luci accese ci stanno veramente preparando per fare qualche cosa e sappiamo che potrebbe non essere sbagliata anche la teoria di foschi perché se ci pensate ogni oggetto intorno all'agenzia da qualche giorno ormai più di una settimana ha iniziato a brillare di viola il discorso che ci riconduce alla potenza del cubo di kevin che appunto arriverebbe dalla parte di foschi e per salutarvi vi ricordo che questa invece dovrebbe essere non una skin ma una variante di mida perché questa dovrebbe essere la sua armatura per comandare la doomsday weapon insomma ragazzi un sacco di cose veramente incredibili stanno per succedere io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me non mi trovate non ci sono questa mattina su twitch ma ci vediamo oggi sempre in live ma alle 14 ciao